Pantelleria, la nostra isola e le donne, donne che anche a Pantelleria hanno cominciato a vivere nella sfera politica, in tutte le sfere sociali, hanno cominciato a dare il loro contributo, non sono più solo mamme, mogli, sono anche donne che contribuiscono fattivamente alla realizzazione di grandi progetti sull'isola, di rilancio turistico, di varie opportunità, di nuovi sposi lavorativi, nuove possibilità lavorative, di maggiore attenzione ai giovani e al futuro dei nostri giovani che non sempre trovano opportunità all'interno della nostra isola, ma noi vogliamo come mamme, come donne creare nuove opportunità per questi ragazzi e siamo in tante a credere in questo progetto, a contribuire effettivamente perché anche Pantelleria possa rinascere insieme a tutta la Sicilia, a tutta l'Italia in un momento particolarmente pesante, ma il contributo delle donne è veramente importante perché noi donne abbiamo una capacità di essere costanti e tenaci che spesso non si ritrova negli uomini che hanno altre, ben altre capacità, ma non questa magari che aiutano a portare avanti i progetti ambiziosi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.